Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento del manto stradale su Corso Vittorio Emanuele a Pescara nel tratto compreso tra Via Genova e Corso Umberto. Si procederà con la demolizione del calcestruzzo deteriorato in quattro punti della carreggiata stradale con la ricostruzione del massetto in calcestruzzo di 30 cm di spessore con doppia rete elettrosaldata e il rifacimento della resina superficiale con colorazione uguale alla pavimentazione esistente. Questo ha precisato il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Pescara Antonio Blasioli il quale ha aggiunto va detto che la resistenza del massetto che andremo a ricostruire è nettamente superiore a quella esistente in quanto lo spessore è di 30 cm al posto dei 15 originari e la rete elettrosaldata prima presente in un solo strato ora sarà di due strati. E per fare gli interventi è stato istituito un senso unico di marcia per tutti i veicoli in direzione sud-nord quindi attenzione al fine di limitare disagio alle corse dei mezzi pubblici dal 28 gennaio e fino alla fine dei lavori ha proseguito l'amministrazione comunale le linee urbane, suburbane ed extraurbane che transitano in direzione sud-nord su corso Vittorio Emanuele II resteranno sul corso mentre quelle che partiranno dal terminal in direzione nord-sud passeranno per via Bassani-Pavone praticamente finché l'intervento non sarà finito sarà attuata la consueta deviazione della domenica e dei giorni festivi sperando in condizioni meteo favorevoli ci vorranno poco più di una decina di giorni precisano dall'amministrazione comunale ma daremo costante informazioni sul progresso dei lavori razionalizzando al massimo i tempi e rispettando la necessaria cronologia delle lavorazioni perché la manutenzione duri più a lungo sono consapevole, conclude l'assessore Blasioli che ciò potrebbe causare qualche disagio specie ai primi giorni del cantiere ma cercheremo di limitarli al minimo anche con l'assistenza della Polizia Municipale